Musica Benvenuti a TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'ordinanza messa dalla sindaco di Gela, Domenico Messinese, in merito alle palme colpite dal punteruolo rosso. Il primo cittadino sottolinea che si tratta di materiale organico e che pertanto potranno essere rimosse. Vediamo. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha messo un'ordinanza con la quale dichiara che le palme colpite dal punteruolo rosso rappresentano materiale organico e che pertanto potranno essere rimosse. In realtà, poco tempo addietro, il primo cittadino aveva dato mandato a delle ditte locali di procedere alla rimozione delle palme, che attualmente sono circa un migliaio, e alla relativa trasporto e distruzione, ma nessuna ditta ha accettato l'incarico. Il sindaco sostiene che le palme uccise dal punteruolo rappresentano un rischio per l'incolumità dei cittadini. L'amministrazione comunale avrebbe già voluto rimuoverle da tempo per prevenire ogni pericolo, ma contrastanti interpretazioni delle norme sulla reale natura del rifiuto, se semplice vegetale o di classificazione speciale, ne hanno impedito l'esecuzione. Io dichiaro guerra all'ipocrisia e a coloro che remono solo e esclusivamente per speculare su dei problemi reali e sui problemi di sicurezza. Siccome la sicurezza è un problema reale delle palme che sono secche e che possono collastare da un momento all'altro, a me viene l'obbligo di intervenire. Abbiamo provato a farlo nei mesi scorsi, ma ci sono state delle persone che sono subito intervenute con denunce su un materiale pericoloso, un materiale non pericoloso. Bene, una certezza che se cade una palma addosso di un bambino, quel bambino sicuramente avrà dei grossi problemi. E io questo non lo voglio fare. E siccome le palme sono diventate ormai enormi, difficili da controllare, bisogna eliminarle. Si sta tutelando sia l'ambiente che sia soprattutto le persone. Quindi chi è che in questi mesi ha impedito, ha impedito con azioni giudiziarie e continue denunce di falsi ambientalisti che di fatto creano solo e esclusivamente dei problemi alla città, bene, noi dobbiamo intervenire purtroppo con una ordinanza che fa un pochettino di chiarezza e dove io mi prendo delle responsabilità ben chiare, delle responsabilità per tutelare il bene della città. Quindi l'ho mandato per questo sia al procuratore che alle forze dell'ordine l'ordinanza per conoscenza. Tutti sono quindi a conoscenza di quello che si deve fare e di quello che possiamo fare immediatamente per tutelare la salute pubblica. Se qualcuno vuole impugnare l'ordinanza lo faccia, ma se qualche bambino o qualche signora o qualcuno resta sotto una palma abbia almeno la consapevolezza che è stato lui a creare quel danno. o per gli andare a ammazzare qualcuno che ci va a finire sotto. Io non lo permetto, quindi chiederei molto gentilmente di incominciare a lavorare per la città e non a speculare in modo subdolo e ipocrita sulla salute pubblica. I falsi ambientalisti forse è meglio che se la finiscono di speculare e non so per quali fini. È chiaro che se qualcuno vuole che qualcuno si faccia male o che le casse del comune vengono svuotate per altri fini, credo che io a questo non mi posso rendere complice ed è per questo motivo che ho messo l'ordinanza. L'intera operazione sicurezza costerà circa 150 mila euro. Cambiamo argomento, momenti di apprezzione. Ieri pomeriggio lo vediamo dalle immagini. In via Vassaniti, in pieno centro storico a Gela, un incendio ha completamente distrutto un immobile al pieno terra disabitato. Le fiamme lo hanno raso al suolo. Non sono chiare le cause dell'arrogo che comunque ha causato enormi danni. Sul posto sono intravenuti i pompieri della locale di staccamento che sono riusciti anche a salvare due cagnolini che si trovavano all'interno dell'abitazione. E la scorsa notte in via Fleming, nel quartiere Margi, il fuoco ha distrutto una Fiat idea di un operaio. In questo caso l'incendio è doloso. L'unità di igiene pubblica del distretto di Gela ha riscontrato la presenza di batteri nell'acqua distribuita nel quartiere di Capo Soprano. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Caltanissetta ha informato il sindaco che ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso alimentare delle risorse idriche alle utenze interessate. Gli esiti dei campioni d'acqua prelevati sono stati forniti anche a Caltacqua che dovrà così provvedere ad individuare ed eliminare con urgenza il disservizio. Intanto Ignazio Giudice, segretario generale della CGL, in una nota sottolinea che un nucleo familiare medio di tre persone spende circa 1000 euro l'anno per comprare l'acqua. Non è poco, è tanto perché litri e litri vengono usati per cucinare e più dell'80% della popolazione non usa né beve l'acqua del rubinetto. Acqua che viene comunque pagata come potabile. Ora anche i batteri, come se fosse normale, tutto nel 2016. La CGL in più occasioni ha chiesto una decisione concreta sul ciclo dell'acqua perché se da un lato è obbligatoria la natura dell'ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua da parte del sindaco, dall'altra la stessa non risolve il problema. Si può ancora parlare di turismo se mancano le condizioni minime di vita civile? Già per i cittadini, si chiede Giudice, è normale spendere migliaia di euro l'anno per comprare l'acqua al fine di usarla per cucinare e l'igiene personale? La risposta è no. Le istituzioni hanno il dovere di dare una risposta ai cittadini. L'invasione batterica reca danno all'organismo dai bambini agli anziani e non basta un comunicato stampa istituzionale, dice Giudice, per risolvere la delicata questione di ordinaria amministrazione. Cambiamo argomento ed occupiamoci della festa di San Martino che si terrà in Piazza Umberto a Gela. Promossa dall'Associazione Timagora in collaborazione con Radio Gela Express patrocinata dal Comune si terrà ai prossimi 11, 12 e 13 novembre in Piazza Umberto I la festa di San Martino. Previste esposizioni di prodotti enogastronomici e degustazioni di prodotti tipici. Un insieme di odori e sapori. Saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria artigianato, pesca, agricoltura e commercio. saranno 20 gli stents che saranno allestiti. A Gela è molto sentita questa festa, soprattutto dalle famiglie. Allora però non c'era un evento per fare partecipare le famiglie anche nel nostro centro storico. Così da questa idea abbiamo sviluppato un progetto che è stato immediatamente accolto dall'amministrazione. Quindi non faremo solo un giorno ma faremo tre giorni perché siccome l'11 novembre cade di venerdì allora perché no proseguire con sabato e domenica in modo che c'è più spazio per partecipare agli eventi. Nasce da questo, quindi da questa idea. L'amministrazione l'ha accolto immediatamente e quindi eccoci qua già a una settimana dall'inaugurazione a presentarla alla città. Non è una fiera, non è un mercatino, non è mai, deve essere, deve essere comunque una festa. Infatti ci saranno comunque delle, cioè balli, canti, folcloristici, locali e addirittura non saranno su un palcoscenico ma in mezzo alla gente, fra di noi, tutti insieme a fare una festa a modo di buffet diciamo. Durante le altre giorni ci saranno sfidati di moda ed esibizioni canore. È un'iniziativa che tende appunto a dare vita al nostro centro storico e alla città mettendo insieme aziende e peculiarità del territorio che meritano di essere valorizzate. In particolare è sul vino che loro stanno puntando, vedremo poi nel concreto come si evolverà la manifestazione ma sicuramente a tutte le caratteristiche per diventare un evento che si può ripetere ogni anno alle stesse date e con la possibilità poi di allargarlo al territorio. Il non ricordo del commerciante gelese che Tano Giordano, ucciso dalla mafia il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato alla racket delle estorsioni, giovedì 10 novembre nei locali dell'associazione anti-racket di Gela che porta il suo nome, si darà un momento commemorativo promosso dal presidente Renzo Caponetti. Saranno presenti Tano Grasso e le più alte autorità civili e militari. È prevista per lunedì 7 novembre alle 9.30 l'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si terrà in via Generale Cascino 68. Saranno dibattuti i temi e le problematiche che attanagliano i pensionati. Aprirà i lavori il coordinatore Orazio Ciaccia e relazionerà il segretario generale territoriale di Agrigento, Caltanissette Denna, Salvatore Montalbano. Chiuderà i lavori il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. I cioccolatini della ricerca di AIRC sabato 5 novembre torneranno in oltre 700 piazze italiane per sostenere il lavoro dei ricercatori. Immunità, prevenzione, microambiente e medicina di precisione sono infatti le sfide scientifiche della battaglia contro il cancro sulle quali stanno lavorando circa 5.000 ricercatori e grazie alla collaborazione di 4 milioni e mezzo di sostenitori che ogni anno scendono a fianco all'AIRC che in questi 50 anni ha dato un contributo determinante alla ricerca. Oggi infatti sempre più pazienti vengono curati e la diagnosi può essere accolta con la speranza e la fiducia di vincere la malattia. Anche i volontari dell'AIRC di Caltanissette saranno presenti sabato 5 novembre in piazza Falcone Borsellino dalle ore 10 alle ore 13 e 30 in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza Marconi dalle ore 16 alle ore 20 e 30. I cioccolatini rientrano appunto in una serie di iniziative promosse da AIRC nella settimana dal 30 ottobre al 6 novembre e che riguardano la grande maratona RAI in cui i nostri più popolari conduttori televisivi e radiofonici fanno da testimonial e prevede inoltre una serie di incontri nelle università italiane allo scopo, quindi con gli studenti, allo scopo di portare a conoscenza gli studenti dei risultati della ricerca AIRC e si conclude il 5 novembre con la distribuzione di questi cioccolatini. Si tratta di confezioni da 200 grammi o da 100 grammi in cambio di un contributo di 10 euro o di 5 euro rispettivamente. La scelta del cioccolato non è casuale è stato dimostrato infatti che il cioccolato ha delle proprietà protettive se contiene una quantità minima del 70% di cacao e addirittura l'Istituto nazionale, l'Istituto americano per la ricerca sul cancro l'ha inserito tra gli alimenti potenzialmente protettivi nei confronti del tumore perché è ricco di flavonoidi e di sostanze antiossidanti. Inoltre è stato dimostrato che il cioccolato è in grado se presente nella dieta in quantità adeguata di prevenire addirittura le lesioni precangerose che sono quelle lesioni che possono dare luogo poi al manifestarsi di una forma tumorale in quanto prevengono le infiammazioni e aumentano la capacità di alcuni enzimi di riparare il DNA. Quindi è una scelta tutto sommato il nostro dare questo contributo alla ricerca AIRC è anche un piacere, è una cosa utile che facciamo alla nostra salute. Il prossimo lunedì 7 novembre alle 10.30 presso la casa circondariale di Contrada Balate a Gela si darà un incontro con i detenuti sulla prevenzione del cancro del colon l'iniziativa è dell'AIRC la cui delegata a Gela è Graziella Condello relazionerà Pippo Leonardi responsabile dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Vittorio Emanuele l'incontro è inserito nel programma di educazione alla salute informare per prevenire organizzato dalla sezione locale AIRC sempre lunedì 7 novembre alla casa della Divina Misericordia di Gela il Vescovo di Piazza di Medina Monsignor Rosario Gisana accompagnerà il breve pellegrinaggio di una delegazione dell'Aias di Gela verso la Porta Santa aperta lo scorso 6 gennaio con una solenne cerimonia in occasione del Giubileo della Misericordia promosso da Papa Francesco questo sarà il culmine della giornata di preghiera che avrà inizio però sin dal mattino con la celebrazione della messa alle 9 nella chiesa Sant'Agostino e un breve pellegrinaggio fino al raggiungimento della Porta Santa la delegazione di pazienti AIAS sarà accompagnata dal presidente Anna Maria Longo e dal direttivo dell'Aias di Gela con parte dell'equip medico-sanitaria è destinato a tutti coloro che vogliono scoprire il nostro passato un excursus sulla storia più antica della nostra isola si tratta del libro L'Isola più bella di Calogero Miciche il volume raccoglie tutti i passi che riguardano la Sicilia presenti nell'opera di Diodoro Siculo è noto infatti quanto importante sia la biblioteca storica come fonte per la ricostruzione della storia dell'isola ampio spazio è dedicato alla Sicilia del mito alla Sicilia greca, quella romana fino alla rivolta degli schiavi il libro è stato presentato ieri nell'aula magna del liceo classico Eschilo di Gela su iniziativa dello stesso istituto scolastico dell'archeoclub d'Italia e della libreria Mondadori mi ha spinto a questa grande fatica intanto l'interesse che ho sempre avuto per Diodoro Siculo avevo curato già nel 92 una pubblicazione per Rusconi con traduzione e commento dei libri dal nono al tredicesimo e poi ho voluto riprendere Diodoro perché Diodoro per la storia della nostra isola la storia più antica ovviamente è una fonte inesauribile di informazioni è molto spesso una fonte unica con dati di grande interesse soprattutto per alcuni momenti della storia della Sicilia antica in particolare per quanto riguarda Gela ad esempio il Diodoro è una fonte importante soprattutto per la battaglia del 405 di cui si discute proprio in questo momento e per tanti altri eventi di storia locale particolarmente importanti l'accenno ad esempio che lui fa al grande tiranno Ippocrate di Gela è in relazione a un momento a mio avviso al momento più felice che Gela ha conosciuto nell'antichità e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro il Consiglio Comunale boccia la Giunta un sondaggio condotto dal Corriere di Gela tra i banchi dell'Aula Consiliare sentenze alla bocciatura di sindaco e assessori sui quali i 30 consiglieri sono stati chiamati ad esprimere un giudizio sull'operato dei singoli componenti dell'esecutivo assegnando un voto sulla efficienza, competenza e simpatia ad uscirne malissimo è stato l'ex assessore Catania abbocciato su tutti i fronti dell'analisi dei dati emersi dal sondaggio se ne è occupato Nello Lombardo in prima pagina una nota del direttore Rocco Cerro sulle emigrazioni di esponenti gelesi verso Sicilia Futura soggetto politico che ha il suo leader nell'ex ministro Salvatore Cardinale per la serie Donne in politica Zaira Placenti questa settimana intervista la consigliera comunale di Reset 4.0 Francesca Caruso Giulio Cordaro nella sua rubrica politicamente scorretto ironizza sui prodotti agricoli a chilometro 200 tra i suoi bersagli il presidente dell'assemblea regionale ed il governatore Crocetta mania per tutti i 90 deputati regionali Nello sport Orazio a comando e Zaira Placenti commentano il particolare momento di difficoltà che stanno vivendo le due maggiori squadre calcistiche cittadine Gela e Terranova in ultima come sempre la pagina degli annunci economici gratuiti ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità ed eccoci in seconda parte del telegiornale domani alle 8 Sport Natura saranno nuovamente protagonisti alla riserva naturale Biviere di Gela per la seconda edizione del trofeo Leopoldi ad un sprint trail per corridori e camminatori di 10 km ricco di avventura la situazione sportiva Sport Action organizza infatti il circuito ecotrail Sicilia aperto a corritori e camminatori agonisti e non il circuito si sviluppa in 18 tappe complessive che si svolgeranno nei parchi e nelle riserve naturali siciliane e dopo il grande successo come dicevamo ottenuto lo scorso anno domani arriverà al Biviere di Gela e ora parliamo di sport c'è area di riscossa in casa Gela dopo la pesantissima sconfitta subita domenica a Fratta Maggiore domani al Presti arriva la capolista Rende dimenticare la devastante scoppola subita a Fratta Maggiore e ricominciare a vincere è l'obiettivo in casa Gela domani fischio di inizio previsto per le 14.30 i Biancazzurri e il Vincenzo Presti riceveranno la visita del Rende nuova capolista del Girone testa difficile per la truppa allenata da Pietro Infantino prima o poi però bisogna incontrarle tutte in settimana i Biancazzurri hanno lavorato soto e hanno stretto un patto di ferro mai più figuracce come quelle di domenica in Campania arriva la capolista perciò domani sarà una partita importante per noi e dobbiamo restare concentrati per portare a casa i tre punti che mancano da parecchio dentro casa facendo un attimo un passo indietro cosa è accaduta a Fratta Maggiore? è stata una partita che capita raramente non siamo scesi bene in campo siamo stati un po' disattenti in alcune palle quindi è capitato quello che è capitato l'unica senza certa domani sarà quella del centrocampista Bruno squalificato al suo posto dovrebbe scendere in campo Bulates bisognerà dare il 101% per battere i calabresi ed una mano d'aiuto deve arrivare dal pubblico invito tutti a venire allo stadio per darci un aiuto che ci servirà però soltanto un punto nelle ultime partite sì infatti ci dobbiamo rialzare il più presto e cercheremo domani di farlo perché siamo un bel gruppo una bella squadra e abbiamo le qualità per fare bene in questo campionato abbiamo lavorato tranquillamente con più concentrazione perché non perché arriva il rende che la capolista però perché ci servono assolutamente punti anche per il nostro pubblico il centrocampista schisciano ribadisce che quest'anno il Gela deve puntare in alto il Gela è una grande società quindi dobbiamo fare bene anche per noi stessi perché siamo un bel gruppo e ce lo meritiamo dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto e quindi dobbiamo fare un bel campionato dobbiamo far divertire il nostro pubblico questo è l'obiettivo partendo da domani sì esatto e nel campionato di eccellenza trasferta per il Terra Nova la squadra allenata da Natale e Serafino dopo la sconfitta subita domenica in casa con il Relicata cercherà punti importanti ad Alcamo e adesso parliamo dello stage di ginnastica ritmica che si è svolto ieri a Gela su iniziativa della Gymnastics Club tenuto direttamente dalla direttrice tecnica della sezione olimpica Francesca Torchia e da una delle sue collaboratrici Ada Quartalone si è svolto ieri nella palestra dell'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela lo stage collegiale di ginnastica ritmica di iniziativa e propedeutica in vista del prossimo quadriennio esercizi sono stati eseguiti agli attrezzi cerchio palla fune nastro e clavette e sono state apportate delle modifiche in merito alle ultime modalità di allenamento e in funzione dei nuovi programmi c'è una sezione gold d'alta specializzazione una sezione silver che abbraccia la vecchia ginnastica per tutti e la ginnastica promozionale i programmi comunque nonostante siano molto articolati sono comunque molto complessi richiedono un'ottima preparazione tecnica alle spalle io sono molto contenta perché negli anni ho visto il gruppo della Gymnastic Club comunque crescere molto evolversi nel tempo la prima volta che siamo venute qui era il 2008 i progressi sono tanti anche il numero delle ginnaste che prendono parte dell'attività di base di ginnastica ritmica è cresciuto molto e di questo siamo molto contenti un momento di grande formazione e di stimolo certamente anche per noi tecnici paradossalmente venire qui a Gela alla Gymnastic Club dal professore Walter Micicchio ogni volta un'esperienza bellissima un team affiatato un team che lavora in maniera molto seria lo abbiamo conosciuto nel tempo questa era la terza esperienza che facciamo qui da voi e questo momento formativo è certamente il momento culminante di un percorso iniziato già da parecchio tempo l'obiettivo l'obiettivo è svolgere gli allenamenti sempre secondo le migliori tecniche indicate dalla federazione nazionale e la partecipazione al campionato di specialità e alla serie B l'istruttrice che ha partecipato al corso è Ilenia Cosenza i corsi sono stati diretti da Walter Micicchio anche in vista della gara che abbiamo vinto l'anno scorso dove siamo arrivati sul gradino più alto del podio siciliano questo ci ha permesso di capire che il lavoro che stiamo facendo era quello corretto ecco perché oggi siamo qua all'apertura del quaderno olimbico con le nuove tecniche che la federazione ginnastica ci impone di fare e quindi contentissimi di fare questo stage dove in queste due giornate avremo modo di poter praticare e attivare tutto quello che è possibile per migliorare le ginnaste siamo alla pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antitoto di Gela lo ricordiamo è in proiezione il film Lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 all'antitoto è già scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani si comincia il prossimo 23 novembre nuova stagione teatrale anche all'eschilo dall'8 novembre prossimo in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione in questo caso il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito vi auguriamo un buono fine settimana appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!